Sanno tutto, sono le più forti, è vero, faccio il chietto e niente, hanno vinto. Guarda, ti dico che c'è gente che è venuta da Bergamo, da Modena, da Milano, da Firenze, bravi. Allora, intanto se volete avvicinarvi, fra pochissimo, fra pochissimi minuti, inizia questo meraviglioso concetto. Ascolteremo sicuramente dei brani tratti da... Bravi, quest'album prodotto dalla grande Ornella Manoni, l'abbiamo già detto prima ma tanto lo sapete. Paolo è arrivato al pubblico grazie al programma Amici di Maria De Filippi, però tra tanti che sono passati da lì, anche un po' inutili e sono spariti, Paolo è riuscito invece ad arrivare al cuore delle persone. Quindi tantissimi live, che oggi è difficilissimo, più di 50 live in giro per l'Italia, più di 50.000 fan che proprio seguono tantissimo. Questo album è un prodotto da Ornella Manoni, che speriamo sia solo il primo di una lunghissima serie. Quindi io riscendo, perché ancora non siamo pronti, stanno un po' accordando gli strumenti. Però vi saluto facendo un applauso a Paolo Maggerino!